Che fai? Batti la fiacca? Rimettiti in forma con noi di My Trainer Lab a Vallefoglia. Un ambiente familiare, professionale e sempre sanificato. Attenzione al benessere della persona a 360 gradi con nutrizionista, fisioterapista e personal trainer. Le nostre classi accolgono non più di 7 persone all'ora. Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21. Sei pronto a ripartire? Personal Trainer, sala pesi, corsi fitness, allenamento personalizzato, nutrizione. Via Pietro Nenni 15, Morciola, 100 vetrine. Vieni al My Trainer Lab, pianifichiamo insieme il tuo percorso verso il tuo obiettivo.